ok ciao amici come va oggi sto video volevo iniziare in modo un po personale dedicandolo a un amico carissimo che abita in quel paese li vedete questo paese è il mio paese io abito in provincia di cuneo invece il primo paese in provincia di asti che si chiama calosso questo mio amico si chiama elio abita lì abbiamo più o meno otto età lui si vanta sempre di essere più giovane ma c'è solo qualche mese di differenza e lo dedico a lui e alla sua signora redana perché sono tra i primi che si sono iscritti a questo canale e mi guardano praticamente tutti i giorni tutte le volte ogni video io mi dimentico sempre di salutare una cara persona sembra burbero grande grosso alto e robusto invece una persona di gran cuore volontario protezione civile pro loco croce rossa coro degli alpini insomma una persona che fa tantissime cose che io considero un caro amico e volevo salutarlo qui pubblicamente all'inizio di questo video e mandargli un caro saluto a lui alla sua signora loredana alle sue figlie alessia e valeria ciao elio ciao elio ecco qua dopo aver fatto questo inizio personalizzato che lo dovevo e lo volevo fare poi mi dimenticavo sempre adesso vi faremo vedere gloria di dio cosa faremo oggi 27 dicembre anche per smaltire i postumi di natale di mangiate che abbiamo fatte senza esagerare ma comunque si mangia sempre un pelo di più e adesso cerchiamo di smaltire la legna vi faccio vedere è due tre giorni che la lasciamo aperta così il telo l'abbiamo piegato l'ho messo lì perché c'è un gran vento che porta via tutto adesso un giorno un giorno e mezzo che il vento non c'è così si è potuto asciugarsi ben bene gloria sta adesso sta prendendo i ciocchi un po più corti che spaccherò li posizioniamo qua e poi così li spacco questi lunghi da segare con la disco sono già pronti per essere segati adesso lo farò quanto prima e per il resto volevo farvi vedere che vedete il cumulo come si è come si è abbassato era un metro più alto adesso taglia metti a posto vedete qua è quasi pieno quasi pieno no ma è più di metà oggi vediamo se riusciamo a farne di nuovo un altro mezzo metro non dico riempirlo ma comunque sicuramente metterne dell'altro questa legna ancora secca che utilizzeremo adesso per per scaldare insieme a quest'altro mucchietto mucchio che c'è ancora qua che piccola media che invece utilizzeremo ancora come l'altra che vi ho fatto vedere prima per bruciare quest'anno no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.